Su questa palazzina a due unità c'è poco da dire, su questo appartamento al primo piano con taverna e garage c'è poco da commentare, perciò non ti resta che venirlo a vedere. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo, in via Riccione e qui si trova questo appartamento in una palazzina di sole due unità, appartamento posto al primo piano servito da ascensore, con ingresso, sala, cucina, tre camere da letto, due bagni entrambi finestrati, due balconi. Ah, al piano terra troviamo taverna e garage. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.